L'arruzione è un po' di spiegazione, un po' di fruttura che però sale senza alcun... Dopo essere atterrata nel terrapieno sopra al dente è andata a capottare nel terrapieno di sinistra con un approccio che ha impegnato circa una decina di minuti di un po' 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 di un po'. ...lottare e da litigare... E allora ci siamo con l'Ubertea del Dente... ...esta volta va a cercare una traiettoria decisamente più larga... ...un passaggio al dente, quello qua, l'ultimo passaggio al dente di questa stanza... ... Cai tutto senza masce... ... gottoglio è un aprivo... ...va a chiuderla senza come problemi. Luca Righelli con Luca Zermance... ...pochi puntati quindi, su Tonella cible... e Righelli con Tonella subito un problema Righelli va a lottare più del 2-0 e intanto Tonella alla S che stiamo al primo passaggio al dentro Mike Tonelli viene quindi a sua merastà in dentro per questo supremo passaggio della Tuzza di Gioia senza problemi decisamente più ardua con Tonella che non ha alcuna titubanza nel salire la S mentre abbiamo anche costa alla Milanesi un altro passaggio di Tonella vicino Tonella che va Luca Costa alla Milanesi Don Marco Tonella ultimi passaggi per questi due piloti Luca Costa senza più bene con Tonella con Tonella con Tonella